LIC! Ben ritrovati i miei cari vintori di Luigiona Barcaccio. Manca esattamente una settimana alla chiusura del calciomercato, quindi entriamo nella settimana di fuoco dove la ogni potrà verificarsi. Ma adesso andiamo a fare un recap, quindi un ricapitolo di quello che sta succedendo qui a Bologna sotto l'ottica appunto mercato sia in entrata che in uscita perché vi dico che ci sono delle sorprese e novità. Quindi ascoltate bene quello che sto per dirvi. Prima però di iniziare, miei cari avventori, come sempre, clicca il tasto rosso, iscriviti al canale di Luigiona Barcaccio, condividi luogo sommo nonché erudito con tutti i tuoi amici di Fedorosoblu e non solo e lasci sempre un mi piacino ai video di Luigiona Barcaccio. Cominciamo con il dire che ieri sera alle ore 22 è stato avvistato all'aeroporto Marconi di Bologna Artur Tiette. Difatti, come vi avevo raccontato nella giornata di ieri, sul canale Artur Tiette sarà il prossimo rinforzo del Bologna Football Club per quanto riguarda la difesa. Quindi si è sciolto il dubbio riguardo al giocatore scelto da dare a Mialovic per rinfoltire un pacchetto difensivo un po' manchevole. Ed è stato scelto Artur Tiette, il ragazzo di 21 anni che viene dal Belgio, dallo stand, ok, che di ruolo è centrale ma può giocare anche sulla sinistra della difesa. E l'affare è stato chiuso per un prestito oneroso da un milione di euro più 5 milioni, ok, che il Bologna dovrà dare in maniera obbligatoria il prossimo anno. In più, che è la notizia nuova riguardo a questa trattativa, ci sarebbe una clausola che prevede una percentuale sulla futura rivendita a favore dello stand del 7%. Quindi Artur Tiette oggi farà le visite mediche con il Bologna e poi magari già in serata arriverà la notte ufficiale da parte del Bologna Football Club o tutt'al più tardi domani mattina. Quindi Tiette è sicuro, è un nuovo giocatore del Bologna. Poi, capitolo, capitolo uscite. Ci sono delle novità in quanto nella giornata di ieri è stata data l'ufficializzazione, quindi questa è già ufficiale, che Baldurson si è trasferito in prestito al Copenaghen fino alla fine di questa stagione. Dopodiché il Copenaghen avrà il diritto di poterlo riscattare o meno. Quindi Baldurson ceduto in prestito al Copenaghen con il diritto di riscatto a favore del Copenaghen. Mi viene da pensare quindi che sul Baldurson sia stata effettuata una bocciatura da parte della nostra società. E non mi sento comunque qua di dire niente di più perché da quello che si è visto è giusto così. Perché il Baldurson, come avevo già raccontato più volte su questo canale, mi dava l'idea di stare a perdersi. Ogni volta che lo vedevi in campo vedevo che non aveva le stimmate del campioncino e quindi ci sta averlo mandato via. Così come si stanno mandando via, sempre a Crotone, che ormai c'è un'affiliazione tra i due club rosso-blu, si sta cedendo, io penso, in prestito, anche se nessuno ha testato allo specifica, ma adesso vi dico io perché sarà prestito. Si stanno cedendo in prestito Godfred Donsa e Nauen Paz, quindi due giocatori del Bologna, oltre al già Musa Iuvara che è già passato precedentemente al Crotone, per chi non se lo ricordasse glielo rinfresco, ok. Ora anche Donsa e Paz stanno per andare a Crotone. Sicuramente sarà con la formula del prestito, anche perché i due giocatori sono a scadenza di contratto con il Bologna a giugno 2022. Pertanto è inverosimile che possono avere, uno, un valore di mercato anche degno di nota, due, due appunto il Crotone che è in Serie B, non penso che eventualmente vada a pagare anche dei cartellini, oltre ai già ingaggi che non sono comunque roba da niente, che si andrebbero ad accollare sul Donsa e il Paz, e quindi ci farebbero già anche solo un favore liberarci di ciò. Quindi anche Donsa e Paz sono in uscita e addirittura la lieta novella potrebbe arrivare tra oggi e domani con la notte ufficiale anche qua da parte del club. Poi Densville è già stato ritratto e quindi già sul volo in Turchia, anzi dovrebbe essere già in Turchia oggi, e quindi è sicuramente un nuovo giocatore del Trabzonspor, ok. Quindi ci siamo finalmente liberati anche di Densville e vi posso dire, anche se è andato là con la formula del presito, ma è come se fosse definitivo perché anche lui fortunatamente ha il contratto in scadenza giugno 2022, e quindi la grande notizia è che non rivedremo mai più con la maglia del Bologna Densville. Così come si spera sia Donsa e Paz, anche loro, non li vedremo mai più. Molto probabilmente anche il Baldurso potrebbe fare questa stessa fine, eventualmente il Copenhagen dovesse riscattarlo. Mentre sempre parlando di cessioni si allontana la possibilità appunto che lasciano il Bologna sia Orsolini che Tognaso, che come sappiamo sui due giocatori c'erano parecchie squadre, su Orsolini c'erano il Torino, la Lazio e la Fiorentina, molto interessante, ma non tanto interessante quanto appunto andando ad offrire al Bologna la cifra che era da loro richiesta, che da quello che mi è parso di capire era qualcosa intorno ai 15 milioni di euro. Nessuna di queste società si è minimamente avvicinata a tale cifra e pertanto Orsolini rimarrà quasi sicuramente, lo do come un 99,9 periodico al Bologna. Così come anche Tomiasu, su cui la percentuale di permanenza è un attimino inferiore a quella poc'anzi detta dell'Orsolini, però anche per Tomiasu c'è abbastanza calma piatta, nel senso che sì, erano interessate parecchie squadre della Premier, tra tutte Arsenal, si parlava West Ham, si parlava Tottenham soprattutto, era spuntato fuori mi sembra anche il Leicester ultimamente, l'Atalanta in Italia, ma nessuna di queste squadre ha mai dato un'offerta congrua a quanto appunto richiedeva il Bologna, ossia 25 milioni di euro. E se una cosa siamo stati chiari è che noi non abbiamo bisogno di vendere, perché grazie a Joai, grazie saputo, per l'appunto non c'è la necessità di dover effettuare delle uscite, perché anche comunque gli ammanchi debiti li ripiana appunto il nostro patrono. Quindi anche Takehiro e Tomiasu dovrebbero, metto il condizionale perché poi sappiamo tutti come funziona il mercato, verso la fine, verso gli ultimi giorni, due o tre giorni, verso le ultime ore, si svegliano magari alcune squadre che capiscono di avere dei buchi clamorosi e allora lì, presi dalla disperazione, chissà potrebbe anche arrivare quella famigerata offerta di 25 o comunque 24-23 milioni di euro per Tomiasu e se veramente Tomiasu vuole andare via, io penso che qua ci sarà poco da fare, anche se poi ci si ritroverebbe agli ultimi giorni senza il nostro terzino destro titolare e di questo io penso che la dirigenza non sia messa talmente così a pecora appunto da cederlo a fronte di nessuno in cambio, perché se poi ci dovessimo ritrovare a fare un campionato con De Silvestri e in Baillet, io penso che noi tutti lo vorremmo evitare prima fra tutti la nostra dirigenza. Quindi anche Tomiasu al 90% dovrebbe rimanere, c'è sempre quel 10% dell'offerta eccezionale che potrebbe cambiare le sorti della situazione, ma che visto e considerato che manca poco, vedo improbabile sinceramente. Poi, adesso il Bologna che ha preso Tiat, secondo me dovrebbe andare a prendere un mediano, ok, un mediano di scorta, perché comunque sono stati ceduti dei giocatori in quella zona di campo, provo a pensare a Poli, a Baldurson, ma lo stesso Don Sa, anche se comunque non era ritenuto giocatore o più da prima squadra, però insomma a fronte di cessioni bisognerebbe andare a prendere qualcuno, detto anche che in quella zona di campo sinceramente, obiettivamente siamo anche abbastanza coperti, se poi si dovesse considerare il Medel appunto anche un centrocampista, Mastino qual è lì in quella posizione del campo, quanto più secondo me sarebbe invece utile andare a prendere un altro difensore centrale, questo è un mio parere, ma poi soprattutto bisogna assolutamente andare a prendere negli ultimi giorni di mercato la punta, ormai ci siamo ridotti agli ultimi giorni, vediamo quali saranno le grandi occasioni che il mercato ci potrà riservare, ma io veramente chiedo che venga preso un vice Arnautovic, perché laddove il nostro bomberone austriaco dovesse pigliarsi un raffreddore, poi ci si ritroverebbe a fare una stagione con Santander e Van Oidonk, poi sappiamo tutti Santander quanto sia fragile fisicamente, e quindi il giocatore Van Oidonk che è giovane si dovrebbe e si potrebbe ritrovare a fare un campionato da titolare in Serie A, io penso che sia qualcosa di evitabile, posto che sappiamo tutti che eventualmente andrebbe a fare la prima punta Musabarro e agirebbe Sansone sulla sinistra, questo è chiaro, però anche questa situazione io la vorrei cercare di evitare, invece a quanto pare la società va bene così, perché io penso che non verrà fatto chissà che cosa ancora di aggiuntivo nella casella entrate, se non andare magari a prendere un mediano, stiamo a vedere magari quel Ricci di cui qua sopra il canale si era parlato, e che è ancora svincolato e che rappresenterebbe sicuramente un'occasione di mercato, anche se va detto, io penso che se si vuole andare ad aggiungere un mediano, la figura più idonea sarebbe magari qualcuno con delle caratteristiche anche un po' diverse, dallo stesso Ricci, ad essere onesti, però stiamo a vedere quello che questa dirigenza riuscirà a partorire. Vediamo, queste le notizie, direi che altre non ce ne siano, ok? Se non dire la chicca, ma questa lascia il tempo che trova, ieri Yoshido della Sampdori, il giapponesino ha giocato titolare con la Sampdori, A voi ogni considerazione, amrachmand, attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui a Luigiana Barcaccio di nuovi video, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate delle cessioni del Baldurso, del Paz, del Don Sa, del Densvi, ok? Soprattutto, e se qualcuno di voi è andato ieri sera all'aeroporto Marconi, a dare il saluto, il benvenuto all'Arturtiate. Con questo per il momento è tutto, ci sentiamo, alle prossime. Che credo!